Sapete? Avete presente il nuovo gioco della Konami che è Yu-Gi-Oh! Master Duel? Doveva uscire l'anno scorso verso... tra novembre e dicembre, probabilmente molto più dicembre, e invece direi che hanno posticipato la data per quest'anno, forse tra la primavera, chissà. Comunque nell'articolo, diciamo, nel sito ufficiale della Konami c'è scritto che la Konami Digital Entertainment è felice di annunciare che Yu-Gi-Oh! Master Duel sarà disponibile in download gratuito da questo inverno del 2021, si parla. E mi sembra strano che ancora non è uscito, anche se col tempo ho ignorato Master Duel, giusto per avere una bella sorpresa nello store di Apple Store e di App Store. Ma per chi non lo sapesse che cos'è Yu-Gi-Oh! Master Duel, leggiamolo. Yu-Gi-Oh! Master Duel si annuncia come l'esperienza digitale definitiva dell'iconico Yu-Gi-Oh! Gioco di Carte Collezionabili, che si può duellare sbloccando più di 10.000 carte, abbracciando due decenni di storie e del duello. Colleziona carte, costruisci il tuo deck e sfida duellanti di tutto il mondo in scontri incredibili e coinvolgenti. Presentati per la prima volta in una stupefacente grafica 4K su dispositivi compatibili, ad esempio le tv che hanno integrato 4K, i dispositivi con lo schermo AMOLED che hanno i 4K, anche gli iPad, nonostante il mio non è AMOLED ma è una retina display, credo, non è un AMOLED. Comunque supporta benissimo i 4K, quindi mi aspetto grandi cose per Yu-Gi-Oh! Master Duel. Forse devono rifinire ancora un po' di texture, un po' di poligoni dei mostri, animazioni, eccetera. Perché come ho detto prima doveva uscire proprio tra il novembre e il dicembre del 2021, cioè l'anno scorso, e io spero che esca, perché io non vedo l'ora di giocarlo. Ed è compatibile con PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One, Nintendo Switch, Steam, iOS e Android. Cioè è un gioco multiplattaforma in tutti i sensi, in tutte le console è disponibile. Vabbè, Steam è su PC, quindi non è che viene considerato come una console, ma comunque supporta e sarà disponibile anche su Steam. Cara Konami, ti prego, fai uscire il più possibile Yu-Gi-Oh! Master Duel, perché... Mi ha fatto venire subito l'hype per il gioco. Ho visto la clip ed è... Grandioso. Dai, fallo uscire. Perché c'è scritto anche nell'articolo che è in uscita quest'inverno, ed è di ottobre di quest'anno. Il primo ottobre è l'articolo che hai pubblicato. Quindi su, sbrigati, fallo uscire. Perché da appassionato di Yu-Gi-Oh! vorrei tanto giocarlo. E duellare, collezionare carte, costruire il mio proprio deck, anche se per la maggior parte costruisco sempre il deck di tipo drago, è vero. Perché i draghi mi affascinano molto. E per... forse per le lore... per le loro... per i loro aspetti, i poteri... sono fighissimi i draghi. Quindi, vabbè, anche gli eroi elementali mi piacciono moltissimo, gli eroi del destino... Ma per gli altri mostri... archetipi... no... proprio no... forse anche Wyrm... mi affascinano molto anche l'archetipo Wyrm... E il tipo Wyrm... mi affascina moltissimo. Spero che esca un deck di quel genere Wyrm... perché ha del potenziale... ha un buon potenziale, secondo me. Vabbè... comunque troverete quest'articolo sotto nelle descrizioni di questo video... per far sapere che dico la verità. E potete seguire anche la pagina di Yu-Gi-Oh! ufficiale in diversi link. e, come ho detto, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter e Twitch. Vabbè... io vi saluto qui, grazie per aver visto questo video... e ci vediamo al prossimo video, ragazzi. A presto, ciao! Ciao!